E qui sono tutti ragazzi, bentornati su Beyond Gamers Oggi siamo qui, come avete potuto leggere dal titolo Per l'unboxing di una bella collector Che è arrivata giusto giusto stamattina Io vorrei farvi notare, coprendo magari il mio indirizzo 65,60€ di Dogana E' stato molto piacevole pagarla Dopo aver speso 175€ dell'oggetto Andiamo ad aprirlo Innanzitutto dovete sapere che Questa collector viene dalla Corea Che è l'unico paese al mondo In cui è stata messa in commercio Per il semplice motivo che è un prodotto coreano Di conseguenza arriva solo da lì Io l'ho comprata da un negozio Online Quindi è nuova ovviamente Con un imballaggio praticamente perfetto Sto vedendo Ed è abbastanza grandicella anche Adesso aspetta Chi è che cazzo la ritrova l'inquadratura adesso Dicevo tra l'altro questa collector è anche abbastanza grandicella Infatti il problema vero e proprio Sarà capire dove esporla Il venditore ci ha lasciato un bel Bigliettino Ho scritto Thank you Lasciami 5 stelle su ebay Ora vediamo fra se ti lascio 5 stelle su ebay Già però l'imballaggio È fatto veramente tanto bene Quindi ok Mamma mia ragazzi Si incastra Da per tutto sto cavetto di merda Dio Cristo Ho detto anche l'unboxing infattibile E voi potrete dirmi Eh beh potete farlo sul tavolo dopo No io voglio unboxare immediatamente Perché già Troppe ore che aspetto Abbiamo quindi la collector di Lies of P Che è gigantesca Grande come Il cofanetto che vi feci vedere ai tempi Dei Blu-ray di Evangelion Però Prima di Aprire il paccone C'era un pacchettino Perché Ogni gioco Fuori dalla collector di conseguenza Ha un mini vinile Ok Da chi ne ho capito È randomico quello che si trova In questo caso Io ho trovato Why Il disco di Why Che non è male Considerando che è una delle canzoni Più belle del gioco Se non ho capito male I quattro che si potevano trovare Era Why Feels Shadow Flower E Xiotic Mi pare Potrebbe anche essere un vinile finto Questo Potrebbe essere anche solo una Un gadget espositivo Non lo so Questo dovrò verificarlo Perché un vinile piccolo così Non l'ho mai visto Cioè non saprei neanche come fare A metterlo nel lettore Sinceramente Andiamo ad unboxare Allora innanzitutto Volevo dirvi che il materiale È bellissimo Sembra tessuto E la scritta olografica Così è veramente Bellissima Cioè serigrafata Non so Argentata Meravigliosa Ora Come si apre questo scatafalco Da sotto Perché è calamitato Esattamente come quello di Evangelion E ci svela I suoi contenuti Ossia niente L'unboxing è finito Alla prossima Sempre qui su Beyond Gamers Non è vero Quindi c'è questa protezione In gomma piuma E la prima cosa che troviamo È Il vinile Della colonna sonora Di Rise of P Questo qui ovviamente È il vero motivo Per cui ho voluto A tutti i costi Da collector Lo vediamo dopo però Qua Ci sono dei codicini Per delle skin Che in realtà Ho già Perché io comunque il gioco L'ho preso in digitale In ogni caso Se volete il codice Il primo che è Può prenderselo Perché tanto Non potete riscattarlo Essendo solo per lo store coreano Quindi Mi piace Passiamo alle cose Interessanti Innanzitutto Ci sono delle spille Quindi c'è la spilla Con il logo Delle industrie venigni E poi c'è la spilla Con l'icona Dell'officina Molto 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 belle Tra l'altro la qualità È veramente altissima Di queste spille Sono veramente belle La steelbook Che onestamente Poteva essere meglio Non mi fa impazzire Che va però A ricordare Le casse Quelle che si aprono Nelle stanze di Arlechino Della Trinità Esattamente Allo stesso motivo Addirittura con la maniglia E dentro c'è anche qui Il simbolo Della fabbrica venigni E vabbè Altre cose Però ripeto Questa steelbook Sinceramente Non mi fa impazzire Poi abbiamo Il gioco In versione coreana Che però rimarrà sigillato Tanto ce l'ho in digitale Anche se So comunque Che questa versione Ha comunque Cioè è la versione internazionale C'è una versione Non è che è solo in coreano È la versione anche europea Ci sono tutte le lingue Con sottotitoli E a parte che il doppiaggio Da noi è solo in inglese Però inglese Sottotitoli in italiano C'è quindi comunque Volendo si può giocare Questo disco qua Se voi non avete ancora Comprato l'Azor P E magari volete la collector Potete giocare questo Da che ne ho capito E come se non bastasse La colonna sonora In vinile C'è anche la colonna sonora Completa In cd Attenzione però Colonna sonora Quella non lo so Però questa qui Ha Le prime dieci canzoni Che sono le Le canzoni dei boss Quindi le musiche dei boss E dalla undicesima Alla diciannovesima Sono le canzoni dei vinili Quindi Phil Someday Xiotic Shadowflower Why Memory of Beach E Proposal Non c'è Fascination Inizio a tremare Se non c'è lì dentro Fascination Perché io l'ho comprata Per Fascination Devo guardare l'altro vinile Se non c'è lì Potrei piangere A tutto questo Si aggiunge un vano segreto Cari miei C'è anche il vano segreto E nel vano segreto Troviamo Con dei magneti Da attaccare a parete Questa Bellissima Metal plate Meravigliosa Da attaccare Alle pareti Ovviamente Non si esporrà mai Dalla collector Non esce Mai più Però ho comprato il poster Nel frattempo di Rise of P La voglio avere esposta in camera Però non la metto al petto Dalla collector Mi dispiace Quindi Riponiamo tutto E andiamo a vedere I vinili Anche qui Logo di Rise of P Su sfondo opaco Molto molto elegante L'interno è mio fratello P Che tocca Una farfalla turchina E le canzoni Presenti al suo interno Pelicolo scampato Side A Traccia numero 1 Fascination A posto Fascination Feel Why Divine Service Arm of God Dreadful March Stays of Grief Rabbits of the Hunt Quindi anche qui Il primo lato Sono canzoni Del vinile Lato B Sono canzoni Dei Boss Questo è il vinile Nel vinile C'è Non lo tiro fuori adesso C'è Feel Da un lato Lice of P Dall'altro Ora ripeto Non so Non ho la più pallida idea Se È questo Che ha l'etichetta randomica Nel disco O l'altro Mentre dall'altro lato Attenzione Abbiamo dei piccoli posterini Uno Con P Uno con Sofia La fata turchina E uno Con zeppetto Nel retro Ci sono delle lettere Da parte dei sviluppatori In coreano E in inglese E sono tutte e tre diverse Perché la prima è di Cho In Ji Ji Won Perdonate la pronuncia Che è il director del gioco Quindi è il Miyazaki di Neowiz Mettiamola così Di Park Kwang Sung Che è il technical director Non so cosa sia Ed infine c'è Quello di No Chang Yu L'art director Sono letteralmente I tre best Che hanno creato La maggior parte Delle cose importanti In Lies of P Che non siano solo Programmazione Quindi ragazzi L'unboxing è finito Però Manca ancora una cosa Ovviamente Provare i vinili Andiamo a posizionare Ragazzi Ragazzi Non potete capire Quanto è grande La felicità Di un fan Che riesce A ottenere Una cosa del genere Ok Io vi assicuro Che ho i brividi Nella barba Vi sento i brividi Lungo La barba Penso sia Una delle mie Tre più belle collector Che ho in casa Perché io Sono un amante Della musica E queste cose Colpiscono direttamente Al cuore Quindi È difficile Anche riuscire a esprimere Quello che Che un appassionato Prova quando Ha un oggetto Del genere In casa Di cosa che penso Ragazzi Questo è veramente L'ultimo video Dell'anno Doveva essere La top 10 Ma poi è arrivata Questa Quindi capirete Che un unboxing Ci stava bene Detto questo A gennaio Arriveranno I video Di Metal Gear Che ho lasciato in sospeso Ci vediamo alla prossima Sempre qui Su Beyond Gamers Grazie a tutti